Grazie a tutti. Perché oltre alla gente che c'era, quindi al clima, oddio non è che noi all'arena siamo da meno, però soprattutto con una squadra esperta, marpiona, ruvida, quindi sono stati bravi a mantenere sempre e restare sempre in partita. Molto importante anche a mio avviso essere usciti ancora una volta da una trasferta senza gol subiti, da fiducia a tutto il reparto e tutta la squadra. Sì, ma quando difendi tutti quanti insieme diventa più facile, ripeto, non era facile, non era una partita tra le più morbide, quindi complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima prestazione anche oggi in un campo difficile e un ottimo punto. Ringraziamo Mister Pagliari e lo lasciamo ai colleghi perché non so se lo sapete ma il Pisa...